Alberto Pezzini, eccolo qua, intanto luco originale, molti lo avranno sentito nominare perché Alberto Pezzini è un personaggio che da anni propone musica, musica notturna, la colonna sonora delle vostre notti, delle vostre serate, attraverso da molti anni Radio Babilonia, ma ha avuto esperienze anche con Radio Massarosa e altre radio. Allora, la musica della notte, parleremo di questo tema, parleremo delle discoteche, delle diversificazioni che ci sono in questo settore, lui è un esperto anche di discoteche a livello regionale, potremmo dire anche estera regionale, i genere musicali, la diversità del pubblico e poi parleremo anche della sua attività, diciamo così, professionale, normale, al di là della musica delle discoteche che è un po' anche un hobby, lui lavora da anni ormai al centro trasfusionale a Via Reggio dell'ospedale Tavarracci. Intanto, buongiorno Alberto, come ti senti? Mi sento un po', è la mia prima esperienza di essere, diciamo così, in un studio televisivo, quindi mi sento anche leggermente emozionato. Emozionato, anche perché insomma il tuo rapporto con la radio poi è in gran parte collegato insomma alla proposta di musica, non sei un DJ tradizionale, un intrattenitore, proponi grande, buona, musica, quella musica anche che va a scovare nei tanti archivi discografici. Da quanti anni? Dall'85, nell'85 ho iniziato con il radio Massa Rosa, poi nella fine dell'86 ho passato il radio Babilonia che a quei tempi tra l'altro era anche la radio numero uno della provincia di Lucca. E vabbè, anche adesso, anche a livello italiano per quanto riguarda il feste di Sanremo naturalmente, che non lascia tracce, una musica forse usa e getta, troppo… Una musica di consumo, secondo me, questa qui, se così la possiamo definire, cioè musica fatta per guadagnare dei soldi, crea, diciamo così, l'immagine del personaggio che secondo me è una cosa effimera, che un anno o due massimo poi spariranno nel nulla. Invece la tua musica, proprio una musica da utilizzare per essere anche più pronti, preparati ad affrontare varie situazioni, ecco, in macchina, la sera, in casa, cioè uno strumento a favore di un ascolto, insomma, anche attivo, perché poi la musica ha anche questo ruolo, insomma, una buona musica quella che proponi. Così un brano che potremmo segnalare un po' un gruppo, che potremmo segnalare, magari ovviamente che non fa parte di quelli molto conosciuti, per cui sarebbe anche facile. Quali sono i tuoi riferimenti in questo senso? Ma i riferimenti, io ho già detto prima, sono più che altro la musica britannica. Gruppi di quei periodi che possono, che sono spariti nel nulla, per esempio, possono essere il Lotus Seeders, che c'era un disco bellissimo, tipo The Fast Pitch, che poi sono scompassi nel nulla, l'Industry, chi è che non si ricorda la bellissima stetta The Nation, per esempio, e poi altri gruppi più conosciuti, ma anche quelli scompassi, ad esempio gli Spandau Wallet, pure i Duran Duran, che esistono tuttora, anche se non hanno più, diciamo così, di vendita di quel periodo. Invece a livello musicale italiano cosa possiamo segnalare, per quanto riguarda le tue preferenze, poi la musica come altri settori ovviamente è un fatto personale. CSI sono gli ex CCCP. Ecco, qui consideriamo, diciamo, per coloro che non sono molto addentro alla musica, CSI, uno magari dice, ma chi sono, chi non sono? Pensate che sono il gruppo che nonostante non abbiano ultimamente mai partecipato a trasmissioni televisive, ne abbiano parlato i giornali normali, non dico quelli specializzati che se ne sono occupati, sono arrivati in prima posizione nella classifica dei dischi più venduti e questo credo che sia un fenomeno importantissimo che dimostra che poi alla fine anche questo grande baraccone dell'informazione del business economico riesce a essere sconfitto da progetti concreti, da progetti sostenuti da contenuti come quelli del gruppo, dei CSI, il gruppo italiano, sicuramente originale. Poi abbiamo? Poi l'IFIBA, anche se ultimamente si sono un po' più commercializzati, comunque mi riferisco l'IFIBA prima maniera, nei tempi di per esempio 17 Re, che nelle picche li ascolto tuttora molto volentieri, poi chiaramente si sono un po' commercializzati, ora è conosciuto da un pubblico anche da non intenditori, se così possiamo definirli. Ecco, abbiamo esaurito un po' una prima ausorita, insomma affrontare, perché poi potremo parlarne per ore, affrontare una prima situazione collegata al nostro ospite di oggi, Alberto Pezzini, ne affronteremo altre tra poco, tra te come so che spesso ci segui nell'ambito del tuo lavoro e di cui ci occuperemo, magari volevo anche salutare i tuoi colleghi di lavoro all'ospedale, perché ci sono anche coloro che poi donano il sangue, perché lavori al centro trasfusionale, all'ospedale Tavaracci di Viareggio, quindi chi dona il sangue deve stare per quanto tempo? La donazione di sangue normale sono circa 6-7 minuti, poi c'è la donazione del plasma che dura circa una mezz'oretta. E quindi quando stanno facendo queste cose, che devono rimanere immobili, i donatori vengono intrattenuti, se così si può dire, anche dalla nostra trasmissione, salutiamo tutti coloro in questo momento, appunto ci seguono e auguriamo loro buona giornata, anzi li ringraziamo perché poi donare il sangue non è il plasma, è un fatto estremamente importante. Un atto di solidarietà verso il prossimo, un atto di solidarietà e generosità verso il prossimo, perché chiunque può avere bisogno di sangue. Especialmente in periodi come questi. E di questo appunto ce ne occuperemo tra poco. Volevo dare qualche notizia a livello locale, ragazzi in fuga, oggi si parla di ragazzi in situazioni molto simili, secondo te hanno qualche riferimento oppure purtroppo per loro tanti valori mancano nella loro adolescenza? Ma secondo me il pubblico di oggi che va in discoteca non conosce molto bene, chiaramente non conosce molto bene la musica, quindi vanno lì e sentono del chiasso, del frastone. Ma io parliamo proprio anche dei rapporti personale umani al di là della musica, questi giovani secondo te insomma come li vedi? Sbandati, positivamente impegnati, che ne so insomma. Ma che non hanno diciamo nessun ideale fisso. E quindi insomma poi soffrono anche di... La televisione mi registro film, ce l'ho anche telepiù fra l'altro, mi registro film migliori che mi interessano, poi me li vedo magari o di sabato pomeriggio, o delle volte domenica pomeriggio, o qualche sera alla sera che non esco. Insomma, mi grabba ricassarmi ogni tanto guardandomi... Però film e altre trasmissioni, no? Non è che tu segua molto i palenzetti televisivi? Sinceramente no. Ecco, bravo, questa credo che sia una qualità da parte tua. Il poco tempo che ho a disposizione di vedere la televisione mi devo vedere qualche film... Genere? Ma genere, dal drammatico al thriller, insomma ci sono vari... Variegato, genere variegato. Ecco, un'altra presa di coscienza maggiore rispetto a... Prima c'è una maggiore donazione oppure... Come vanno le cose? Le donazioni più o meno è sempre... Ogni anno di solito è in crescita, no? E anche se fa bisogno di sangue non è mai sufficiente a ricoprire il bisogno per il paziente. Se così possiamo dire. Comunque siamo tra uno dei centri trasfusionali che lavoriamo di più della Toscana. Quello di Viareggio, ma il Viareggio intende la Bersiglia? Sì. Quindi il centro di Viareggio è uno di quelli che offre più contributi, diciamo, alla causa importante della donazione. Sì, chiaramente considerando anche il numero della popolazione che abbiamo. Un centro nazionale e provinciale come quello di Lucca, senza dubbio, avrà sempre il numero di donazioni superiori. Comunque siamo tra i primi in classifica. Ecco, per donare sangue ci si può rivolgere direttamente a voi oppure vi va a passare dall'associazione come l'Avis, la Crocevede, mi ricordo. Dipende, uno può passare sia dall'Avis che dai fratres oppure lo può fare come donatore occasionale. Per le fine della donazione, diciamo così, lo scopo è lo stesso. Se uno va ad un'associazione, diciamo che è seguito dal medico di gruppo, che gli richiede ogni tanto esami periodici, fanno delle visite periodiche, uno si sente più seguito. Magari gli mandano un invito ogni tre mesi a venire a fare la donazione, mentre se uno lo fa come donatore occasionale viene quando vuole, senza… Ecco, ma un donatore occasionale deve prima passare comunque da una visita medica, oppure viene a donare sangue e poi siete voi che analizzate le caratteristiche del sangue? Sì, facciamo gli esami di legge che sono gli esami sull'epatite, le BC, l'HIV e poi sulla WDRL. Ecco, a proposito dell'HIV il tema che salta agli occhi, anche se ricordiamo che la donazione di sangue non è collegata soltanto all'HIV, ma ci sono tante altre esigenze importanti che spero spingono sempre più persone a donare il sangue. Ci sono tutte queste giuste leggi sulla privacy, voi siete comunque a contatto anche con questi aspetti, voi sapete come vanno le cose, così, senza entrare nel merito, qual è la situazione dell'HIV, dell'AIDS in Versilia? Ci sono dei dati relativi alla diffusione? Ma ora come ora, è già un po' che non vedo dei dati, comunque mi sembra che sia un po' un calo rispetto agli anni precedenti. E comunque in questo senso, intanto è un dato positivo, in questo senso fondamentale è la prevenzione, e anche magari la prevenzione non soltanto collegata all'uso dei profilatti, ma proprio anche collegata alla possibilità di fare delle analisi. Secondo te quale sarebbero i tempi migliori, ognuno di noi, ogni quanto dovrebbe fare un'analisi, tanto per conoscere meglio le sue reali condizioni di salute? Ma perlomeno una volta all'anno. Ecco, questo indicativamente potrebbe essere un fatto… Poi dipende chiaramente da… Poi dipende chiaramente da…